Siamo con Dario e Lorena e domenica scorsa è successo un brutto episodio a voi ragazzi. Che cosa è successo? Nulla, domenica intorno alle 10-20 ero nella villa comunale di Quarto e aspettavo dei miei amici. Ho seduto su una panchina quando sono stato letteralmente circondato da un gruppo come 25-30 ragazzini che oscillavano tra i 14, massimo 17 anni, insomma minorenni. Inizialmente hanno iniziato a parlarmi o a toccarmi accessori, collane, chiedendomi quanto costasse appunto la mia collana o scarpe. Fino a quando non hanno iniziato a molestarmi verbalmente, fisicamente, facendomi domande e avanzi sessuali imbarazzanti perché io ho 30 anni, loro ho 14 e se non sia mai passa una persona adulta, posso anche passare come un predatore sessuale, non mi sembra il caso. E mi hanno lanciato, scaraventato addosso uno dei loro amici, amichetti, finendomi sul braccio neotatuato, mi hanno quasi bruciato le sopracciglia con l'accendino e hanno provato a bruciarmi la borsa con l'accendino. Al che ho dovuto allontanarli, avevo già telefonato la pattuglia, avevo telefonato la caserma di quarto, perché ogni volta che provo a telefonare il 112 mi rispondono i carabinieri di Pozzuoli dicendo che devo chiamare la caserma di quarto. I carabinieri di quarto mi hanno detto che sarebbero subito arrivati, ma non sono venuti subito, sono venuti dopo un'ora, dopo che sono già stato attaccato. E nulla, commenti allo stesso tempo quali ricchione di merda, non farti vedere, ti brucio, ti appiccio, che c'hai in mezzo alle gambe, tutte queste cose qua. E la stessa cosa capita anche a lei ormai da due anni a questa parte. La stessa cosa succede anche a te? Sì, allora una settimana fa c'erano tipo questi ragazzini che hanno iniziato a lanciarci cose, pietre, castagne. A me è arrivata quasi una castagna in faccia, una sul braccio, insulti come transe di merda, ricchione di merda. Cosa hai fra le gambe? Voi cosa chiedete? Noi vorremmo essere tutelati e se non dalle forze dell'ordine, quanto meno dalle istituzioni o qualcuno che possa fare qualcosa. Non posso pensare che in un paese come Quarto, che contiene 60.000 e passa abitanti, ci sia solo una pattuglia di sera. Io devo aspettare ore per ricevere i carabinieri, la visita dei carabinieri, oppure addirittura non riceverla proprio. Quando vengono ci viene detto che ci sono cose più importanti a cui pensare, come furti, le rapine, abbe, queste cose qua. E noi passiamo praticamente sempre in secondo piano. Cioè noi rischiamo la vita ogni giorno per passare una semplice serata tra amici. Non è la prima volta che succede questo? A me succede ormai da dieci anni. Ho denunciato già sette anni fa un episodio bello pesante. Pensavo che le cose potessero cambiare e non sono minimamente cambiate. Non sono stato tutelato e non sarò mai a quanto pare tutelato. Perché se anche esco di casa a luna di pomeriggio per prendere un pacchetto di sigarette, mi molestano, mi lanciano cose addosso, mi fanno commenti, mi seguono, mi rincorrono. E io sono stanco di essere la cavia delle frustrazioni degli altri. Grazie a tutti.